Grazie al successo su PC e su console di Dragon Knight Saga e a 900 mila dollari tirati su in crowdfunding, l'Aryan è finalmente riuscita ad autofinanziarsi il progetto che da tanto desiderava. Divinity Original Sin arriva dunque intenzionato a riportare in auge un genere che tentenna dagli anni 90 ed il compito può dirsi sicuramente riuscito. Del resto è da quando sono usciti Skyrim e The Witcher 2 che non giocavamo ad un RPG degno di questo nome, profondo e stratificato come il titolo che abbiamo di fronte. L'avventura di Original Sin comincia lasciando al giocatore ben poche informazioni. Sappiamo solo che i due protagonisti sono dei source hunter, inquisitori alla caccia di coloro che praticano le arti proibite, mandati dall'ordine ad indagare su un omicidio nella città di Saezil. Da qui la trama si sviluppa in maniera molto libera, lasciando che sia il giocatore a scoprirne i risvolti. Il plot è accattivante e presenta diversi colpi di scene inaspettati, sebbene non decolle mai verso vette memorabili, forse complice l'anonimità eccessiva dei protagonisti. Le situazioni sono però integrate magistralmente con gli eventi giocati e ci siamo spesso stupiti della ricchezza e della qualità vibrante dei dialoghi e dei personaggi che l'Aryan è riuscita a creare e rendere così bene a schermo. Su tutto svetta una forte vena ironica che ha sempre contraddistinto il lavoro della software house e che rende Divinity un prodotto molto particolare ed atipico. A livello di gameplay si comincia come sempre con la creazione del personaggio. Le classi proposte inizialmente non sono altro che stereotipi di gioco a cui l'Aryan ha dato un background, dal classico chierico al mago e ai tank. Tuttavia potremmo anche assegnare gli attributi e le skill in completa libertà. Il sistema di progressione è uno dei punti di forza del gioco e permette combinazioni molto flessibili, dividendosi in tre grosse parti, attributi, abilità e talenti, alcuni dei quali sono in grado di cambiare letteralmente l'esperienza di gioco. La complessità resta comunque notevole anche se non spiazzante e il tutto si interfaccia in maniera molto coerente con il sistema di combattimento. Il piatto forte della progressione è però la struttura non lineare. L'assenza totale di indicatori che ci suggeriscono la via è segno fondamentale per capire che ogni compito che riceveremo avrà diverse soluzioni. La forza di un simile sistema è che si è costretti a ragionare per capire dove andare, in un modello che premia la curiosità e l'intraprendenza del giocatore. Il gioco prosegue spedito su questi ritmi ragionati, aggiungendo alla complessità di interazione strati su strati di scelte da compiere ed enigmi da risolvere. Anche il sistema di crafting è un altro esempio di quanto intelligente ed ingegnosa sia la struttura messa in piedi da Hilarion, che poi viene sublimata dal combat system. Il combattimento, in Divinity, è a turni e converge in uno dei gameplay più stimolanti di sempre. Anche in questo caso le parole d'ordine sono due, intuito e creatività. Il sistema è in realtà quanto di più classico potremmo aspettarci, con alcune differenze fondamentali che lo rendono unico e appagante. La prima è fondamentalmente che non c'è una griglia di movimento e tutto si basa sulle distanze di abilità e spell, tutte supportate da un'ottima varietà. Poi c'è da mettere in conto l'interazione con l'ambiente. Anche in questo caso le combinazioni sono incredibili, pozze di olio che prendono fuoco e magie del fulmine amplificate da una pioggia torrenziale. Tutto darà libero sfogo alla nostra creatività, rendendo l'ambiente di gioco una vera e propria arma a doppio taglio. Da citare anche il fatto che Original Sin può essere giocato interamente in cooperativa con un amico. Il sistema è davvero interessante e mai come in questo caso la cooperazione va al di là del mero giocare insieme, perché i due personaggi principali, controllati uno a testa, sono completamente indipendenti e possono controllare a loro volta un altro personaggio secondario. Anche tecnicamente Divinity non smette di stupire. Sebbene qualche bug sia presente, non ci aspettavamo un simile successo sotto il profilo tecnico. Ogni mappa esplorabile è caratterizzata in modo certosino, con panorami mozzafiato. Gli effetti di zoom progressivo e depth of feel dinamico che inquadrano i personaggi in tempo reale contribuiscono a dare una profondità di campo incredibile per un titolo con telecamera a tre quarti. Anche i modelli sono molto dettagliati, così come gli effetti particellari. Purtroppo disastrosa è l'interfaccia. Nonostante un aspetto funzionale, quando le abilità e gli oggetti si faranno più complessi e numerosi, si incontreranno delle difficoltà immense nella gestione di oggetti e skill. Il comparto audio invece è eccezionale. La colonna sonora è incredibile, dinamica a seconda delle situazioni e dei luoghi e l'accompagnamento è insomma elettrizzante, adrenalinico e accattivante. Divinity Original Scene è un'esperienza che nessuno deve lasciarsi scappare. A costo di chiudere un occhio sui problemi gravi di interfaccia e gestione dell'inventario. Divinity riesce in un sol colpo a riportare in auge un'impostazione di gioco vecchia quanto i videogame stessi, ma anche a svecchiarla in una formula confezionata con tutti i crismi delle grandi produzioni. Divinity è insomma un'avventura magnifica in un mondo fantastico ricco di possibilità e libertà di scelta, che mette alla prova l'inventiva e la creatività di chi gioca in modo stimolante e intelligente. Non lasciatevelo sfuggire, inebetiti da anni di titoli teleguidati è finalmente tornata l'ora di giocare di ruolo sul serio.